Ben trovati dal Tg della mobilità, sicurezza stradale e viabilità, dal lunedì prossimo al via la sperimentazione della nuova circolazione tra la tangenziale est e lo svincolo per l'A24, la modifica interessa il tratto in direzione San Giovanni tra via Tiburtina e l'immissione verso l'A24, all'aerodeviazione e chiusure per la gara di Formula E che si correrà domani e domenica a porte chiuse. La diretta si potrà seguire sui canali televisivi Sky Sport 1 Italia 1. Fino alle 5.30 di lunedì chiusa la Colombo tra Viale Europa e Via delle Tre Fontane, percorso alternativo su Via Laurentina e Viale dell'Oceano Atlantico, Deviate anche le linee del trasporto pubblico, sarà sempre garantito l'accesso al centro vaccinazioni della nuvola.